Signori, è appena uscito il primissimo trailer di Super Dragon Ball Eros Voglio guardarlo insieme a voi Ovviamente non posso mostrarvelo a schermo Altrimenti mi chiuderebbero il canale Ma vi lascio comunque il link in descrizione per visionare il trailer Quindi andate assolutamente a vederlo Io lo vedrò qui insieme a voi Però permettetemi prima di dire una piccola cosina Sfrutto l'occasione Se avete visto ogni lunedì vi sto portando dei video approfondimento riguardo Super Dragon Ball Eros Bene, quelli lì è bene che sappiate Perché mi dispiace che poi in molti se li perdano Perché pensino che effettivamente siano degli spoiler Quelli lì non sono dei video spoiler Ma in realtà sono i video O meglio gli approfondimenti delle saghe precedenti A quelle che vedremo effettivamente All'interno di Super Dragon Ball Eros in versione anime Perché Super Dragon Ball Eros partirà dalla terza saga E ciò che vi sto portando ogni lunedì Ad esempio lunedì scorso vi ho portato la prima saga di Dragon Ball Eros Lunedì prossimo mi porterò la seconda saga di Super Dragon Ball Eros E quindi poi vedremo domenica 1 luglio la terza saga in versione anime Quindi non sono assolutamente degli spoiler Ma è ciò che è successo prima Quindi sto soltanto facendovi capire un attimino Come si arriverà a ciò che vedremo nell'anime Quindi mi raccomando se non avete visto quei video Recuperatevele perché non sono minimamente degli spoiler Ma anzi vi aiuteranno a capire ancora di più più o meno La storia che vedremo all'interno dell'anime Quindi signori io direi di partire Vedo già un Goku blu qui Qualitativamente non male Vedo soltanto che sta caricando la Kamehameha Quindi signori 3, 2, 1 vado Ok Kamehameha Quarto livello eccolo qui signori ma Ok Trunks si apre il Prison Planet Bellissimo sto Prison Planet tra l'altro eh Ok questo dovrebbe essere Kamba il nuovo Saiyan Ma bellissime le animazioni o sbaglio Goku in Super Saiyan di secondo livello Trunks Goku Berserker davvero? Davvero vediamo già Goku Berserker non ci credo Fu Di nuovo Kamba E Viget Blue perché? Ma perché Viget Aspetta devo rivederlo un attimo Lo rimetto Goku blu Goku quarto che lanciano sta Kamehameha Ok Ok sempre le solite Kamehameha di Super Però signori come si vede bene questo trailer Cioè se l'episodio è fatto tutto così O gli episodi sono fatti tutti così qualitativamente Siamo al top Guarda Goku Berserker graficamente Pure Vegeta quanto sono fighi Ok fu E c'è anche Viget che dice proprio Kamba C'è Lukyama il Saiyan Bellissima sta cosa Questo ritorno di Viget non me lo aspettavo minimamente Vabbè trailer da 30 secondi Signori ma tanta tanta roba Cioè ha una qualità assurda Io ora credo che Perché si tratta di un trailer Allora ok Ci hanno fatto questa qualità Ma se gli episodi sono davvero qualitativamente realizzati in questo modo Signori è tantissima roba Qui è Cioè non tanta Tantissima roba Ed ecco per quale motivo anche Dragon Ball Super è stato un attimino accantonato Anche perché vabbè stanno lavorando al film Ma è normale perché realizzare una roba qualitativamente parlando in questo modo Cioè Viget è una bomba Probabilmente mi salverò il Mi salverò l'artwork Mi salverò il wallpaper di questo Viget E lo metterò come sfondo magari O del mio computer o del mio cellulare Cioè è una roba mostruosa È bellissimo Bellissimo Bello bello Signori Insomma hype Tanto hype 11 giorni Quanti ne mancano 11-12 All'inizio di Super Dragon Ball Heroes E già non vedo l'ora Già non vedo l'ora Signori Vi terrò ovviamente aggiornati Lunedì prossimo dovrebbe uscire il prossimo video quindi Dedicato alla seconda saga di Super Dragon Ball Heroes Quella proprio precedente a quella che vedremo proprio all'interno dell'anime Quindi non ve la perdete assolutamente E poi ci sarà anche qualche altro video Ve lo posso assicurare Quindi signori Vi ricordo che il trailer è qui in descrizione Andate a visionarlo assolutamente Perché merita tantissimo E farà ricredere sicuramente anche molte persone Soprattutto gli scettici su Super Dragon Ball Heroes O almeno inizialmente Poi staremo a vedere durante l'anime Quindi fatemi sapere cosa ne pensate Quindi a questo punto mi piace Commento Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video Mi raccomando tanti mi piace per altri video di questo tipo Altri video reaction Appena esce qualcosa di molto molto figo E quindi noi ci diamo appuntamento Come al solito ad un prossimo video E quindi noi ci diamo appuntamento